ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi nuovo video scusate qui stavo sistemando il cellulare ieri ho fatto una cliente è onicofagica grave quindi scusatemi ma più di questo io con onicofagica ancora non sono tanto esperta però comunque cerco di fare il meglio come posso io ho fatto una ricostruzione con tip e adesso sto applicando questo colore sempre di passione unghie che il poison black su tutte le dita tranne sull'anulare che andrò a mettere uno smeraldo glitter sempre di passione unghie e nel medio e applicherò un brillantino ovviamente sempre tutte e due passate sia il poison black che lo smeraldo glitter e a fine lucido sempre di passione unghie ultra gloss e infine l'olio cuticole io spero che il video vi piacerà se vi piacerà mettete il pollice in su se volete sotto il video mi commentate io vi lascio il video e ci vediamo presto al prossimo video un bacio e alla prossima ciao 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 ciao